È scritto a parlare il deputato David Mattiello, prego. Grazie, Presidente. Ci sono oltre 5.800 persone che in questo momento hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono i testimoni di giustizia, i collaboratori di giustizia e i loro familiari. Molti di questi sono bambini molto piccoli. Sono persone che per motivi diversi, con percorsi differenti, irriducibili, hanno però in comune di aver messo la propria vita nelle mani dello Stato. Queste persone, oltre 5.800, hanno tirato un sospiro di sollievo perché finalmente, dopo tre mesi di attesa, il Ministro dell'Interno Alfano ha firmato quella delega che consentirà al Vice Ministro Bubbico di presiedere la Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno, che è l'organismo dal quale dipendono tutti questi destini. Ecco, siamo lieti di questa novità tanto attesa e vogliamo assicurare anche da parte nostra, come parlamentari, il massimo dell'attenzione per i lavori della Commissione Centrale e del Servizio Centrale, persone dedite che hanno molto a cuore, come a noi, la vita di queste persone, il massimo dell'attenzione, il massimo della collaborazione, perché quanto prima, soprattutto le situazioni più delicate, e ce ne sono diverse, vengono affrontate e risolte. Grazie. Grazie, onorevole Mattiello.